Buonasera, bentornati all'appuntamento con informazione con Reporter News, siamo l'edizione della sera, del sabato, che come sapete è particolare, abbiamo il piacere di condividerla con un ospite, in questo caso c'è qui con noi Fabio Terragni che è il presidente della società pedimontana SPA che avrà il duro compito ma anche entusiasmante appassionante di realizzare proprio la pedimontana, la superstrada che collegherà Dalmina a Malpensa a nord dell'A4, sappiamo che i lavori burocratici sono in corso, i tempi stanno rispettando, l'obiettivo è terminare entro? 2015, ormai è una scadenza per tutti. Faremo anche un po' di ordine tra le tante sigle relative ai nomi delle grandi arterie che si stanno realizzando anche in vista di Expo 2015. Diciamo promesso all'inizio del telegiornale che avremmo parlato a lungo di strade, cercheremo anche di fare ordine tra le tante sigle e le tante arterie che sono in fase di realizzazione e cominciamo a fare chiarezza con questo primo servizio. Via Rotonde, incroci, imbuti e soprattutto fra qualche anno a Biocode. La nuova Monzarò, pronta per il 2014, salda dopo anni di attesa l'anello viabilistico intorno a Milano. Diventerà una vera e propria superstrada di connessione diretta tra le due tangenziali meneghine, saltando la Milano-Medac con uno spettacolare ponte e soprattutto un collegamento veloce da e verso il polo di Expo 2015 a Roppero. Il progetto preliminare presentato a Palazzo Zimbardi permetterà di riqualificare l'intero tratto di 9 km tra gli svincoli di Paderno-Dugnano all'attuale rotonda tappo di Baranzate, dove oggi la provinciale si restringe ad una corsia per senso di marcia. Le carreggiate diventeranno di livello autostradale e il nodo di Baranzate verrà bypassato da una nuova galleria urbana. A opera conclusa, traffico e inquinamento dovrebbero calare di almeno il 30-40%. Grande l'impegno sul tema della mitigazione ambientale dell'opera e cui lavori partiranno nell'estate 2011. Previsti infatti corridoi verdi, barriere antirumore e una galleria fonica a Paderno. Soluzioni che più hanno trovato non solo il consenso delle realtà locali, delle amministrazioni locali, ma credo che sia la prima opera pubblica di Cosimpo di Paderno che nasca senza un comitato contro. L'operazione sarà completamente autofidenziata. Agli automobilisti verrà chiesto, ma solo a Superstrada Aperta, da fine 2014, un aumento di 20 centesimi sul pedaggio che sarà pagato solo ai caseri d'ingresso e uscita da Milano. Ai pendolari, all'interno delle tangenziali, non sarà chiesto una monetina in più. Stiamo parlando di un investimento di circa 300 milioni di euro senza sostanzialmente nessun contributo pubblico. Milano-Seravalle con un investimento di 8 miliardi di euro, ricordato ancora Penati, è diventata l'architrave di tutti i grandi interventi nell'area milanese, Monzarò, Est-Esterna e soprattutto Pedemontana. Questo senza gravare sulle tasche dei cittadini. Promonza in autofinanziamento. Per quanto riguarda Pedemontana e Tem abbiamo partner di più una grandezza sia industriali che finanziari e quindi possiamo affrontare questo percorso. È un'avventura infrastrutturale davvero gigantesca. Abbiamo sentito le cifre in ballo, 8 miliardi di euro, 16 mila miliardi circa delle vecchie lire. Soldi che ci sono? Beh, soldi che in parte ci sono, nel senso che in parte sono garantiti, per esempio per quanto riguarda Pedemontana, da uno stanziamento pubblico in contributo di circa un miliardo di euro. Gli altri 7 sono da trovare, nel senso che c'è l'impegno delle società di cui abbiamo sentito citare la sigla, come Milano-Seravalle e altre società che sono impegnate nelle nostre compagini azionarie a mettere la quota a parte di loro competenza in equiti, cioè nella parte di capitale sociale della società e poi ci sarà una parte importante di debito. Che si autofinanzierà poi con... E sì, che verrà restituito con il tempo attraverso i pedaggi, ma diciamo che la fase economica che stiamo attraversando di grande recessione internazionale, qualche complicazione, qualche problema ce lo potrebbe dare. Approfittiamo di questa...